Musica Quanto è importante per te la moda? No, un po' tutto, sinceramente col fatto che faccio un lavoro dove mi vestono sempre quando tocca a me, decidere, faccio sempre a botte con l'armadio, oggi no, dicevano che era una notte rock e quindi ci sono un po' adattate E tu sei più rock o più romantico? Romantico E che cosa indossi di tuo, cioè che scegli tu, non che ti vestono, per conquistare una donna? Di solito per conquistare una donna vado nudo, se sono in campo rock, senza difese Così, così come mamma ci ha fatto, come ti nascondi, no? Giusto Giusto Buona serata allora Ciao anche a te, ciao Buona serata Buona serata Buona serata Buona serata